eccoci qua eccoci qua benvenute nel micesso benvenute nel micesso allora ragazze video di collaborazione questo veloce veloce allora un video di collaborazione per quando ritorniamo a scuola diciamo così c'è un penso che in cina non so se si rientrano a scuola prima di noi noi di solito si rientra settembre ottobre la scuola in italia ecco mi sembra metà settembre primi di ottobre alcune regioni e invece si vede che in cina ecco entrano prima a scuola perché questo il signor aif ha detto mi ha chiesto ecco di fare questo video puntando sulla scuola ora non so ecco di preciso come come funziona ecco allora ragazze e questo mese mi sono scelta due vestitini che qui danno cioè a me personalmente mi stanno come magliettine con dei leggins e sotto dei pantaloni sotto perché sono un po cicciottina quindi il tessuto non è di quello in maglina è in scinfon e quindi resta un pochino più duro e diciamo che ho dovuto adattarli invece che anche se ho preso una xl o metallia però essendo un po cicciottina a me mi stanno mi stanno così sotto sotto la pancina ecco non sono da mettere senza nulla quindi io li uso come come magliettine diciamo così però sono dei capi che sono freschi sì perché il tessuto appunto è in sciffon non è un tessuto pesante e quindi voglio dire si possono usare benissimo così allora questi 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 capi vi arrivano ecco dentro dentro queste buste così dalla posta e poi sono sono avvolte in queste altre buste trasparenti ora la qualità non è delle migliori diciamo così però bisogna anche considerare che questi questi capi costano 4 euro 5 euro quindi voglio dire sono spesucce con 4 euro che bucci comprare nemmeno un pacchetto di sigarette ragazzi allora ve li faccio vedere subito allora io mi sono scelta questi due capi neri perché lo sapete io il nero è il mi forte ho preso questo questo vestiti questo vabbè questo bollerino così che è un vestitino però a me siccome mi arriva a metà coscia io posso andare con i coscioni di fuori scusate un attimo amore e cioè ziole oh ma mamma oh mamma oh mamma oh mamma oh mamma grazie ziole o quant'è che non ti io non facevi un salutino alle tati ah siamo al bagno guardavi quant'è che non facevi perché lo bisognava un salutino alle mime e quant'è che non le facevi una salutino a tutti i tati amore Mammo io, mammo io, mammo io, amore, quant'è che non facevi, mamma, un gialludino a questa età, amore, eh? Ah, questi, questi fossini c'erano, volevo sentire l'odore, amore, tu l'è, un gigante, un gigante, un gigante, un gigante, un gigante, dieci giganti di casa. Amore, mamma, mamma, mamma. Che gli hai fatto, no? Ti dirò la coda, ti dirò la coda, ma è cattiva la tata. Ti dirò la coda, amore, la tattina era. Viva, 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 viva. Magliettina, diciamo così, lo metto sopra i pantaloni, sopra i pantacollard, i leggings, come sono chiamati adesso. Allora, è fatto così, è fatto, e dietro è tutto incrociato. Ora, magari ve lo farò vedere, o vi metto una foto della modellina, perché su di me non rende come nelle modelline. Allora, è fatto tutto incrociato così, dietro, e davanti è fatto a cannotterina, larghino così, e è proprio bellino, perché, ecco, così, è un pochino trasparente, però ha un reggisellino sotto. Nero è bellino, insomma, è molto carino. Questo qui, il tessuto è buono, è chiffon, e anche le rifiniture non sono male, non sono acce acce, è rifinito abbastanza bene. Di solito, questi capi cinesi hanno qualche pecca nelle rifiniture, ecco, diciamo che non sono rifiniti tanto bene, però questo sembra abbastanza rifinito bene. Poi dopo ve lo faccio vedere indossato, eh ragazze? E poi ho preso quest'altro, quest'altro è molto più carino, perché c'ha dietro questa, questa specie di bretellina, vedete così, e davanti c'ha questa cernierina lampo dorata, anche questo è in chiffon, e questo è, è come se, è doppio, vedete in fondo com'è? Anche qui vi metterò la foto della modellina, così lo vedete meglio, ecco, che sono più belline le cinesine, sono tutte belline, tutte, piccoline gli stanno anche bene questi vestitini. Allora, anche questo qui, cioè, a me mi arriva sotto la pancina, quindi è inutile che ve lo faccio vedere così, senza nulla, ecco. Io di solito metto dei pantaloni neri, dei pantaloni bianchi con qualche intarsio nero, insomma, una cosina così, oppure ecco, ognuno poi è libero di fare come vi pare. Allora ragazzi, io mi sto trovando davvero molto bene con questa ditta, perché oltre ad avere vestiti, parrucche, ad avere tutte cosine così, insomma, di trucco, così, i prezzi sono davvero molto... Sì, sono sempre limitati i prezzi, quindi voglio dire, con 10 euro vi portate a casa veramente tante cosine, e anche le spese di spedizione sono davvero minime. Allora, questi qui me l'hanno spedito il 12 di luglio, e mi è arrivato ieri l'altro, quindi erano i primi d'agosto, insomma, all'incirca. Ci mette un pochino a arrivare, però non è che eccessivamente, come alcuni, come altri siti orientali, dove mettono, impiegano parecchio, parecchio tempo. Allora ragazzi, niente, io vi lascio al, al, alla prova del, del 9, e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao belle, alla prossima! Questo qui è il primo vestitino indossato, c'ha questa cernierina lampo così, che è davvero molto carina, vabbè, se volete farle sexy la frite un pochino di più, ecco, magari perché c'ha un bel decoltè, ora c'ho due frugnette secche nelle tettine, però se magari c'avete un bel decoltè la potete tenere aperta e viene bellina. La particolarità di questo è che è così dietro, vedete, è molto carino perché è anche abbronzato, ok, e di questo ci sono diversi colori. Poi nell'info box, se l'aprite, trovate ecco tutti i vari colori del, di questo abettino, insomma, ecco. Allora, invece la particolarità di questo è che ha questo, vabbè, è fatta così a cannottina intrecciato, quindi lo rende molto carino, molto fresco, perché, diciamo, è davvero, cioè, è un velino di cipolla, o me che si dice qui da noi, quindi è molto fresco. Allora, nell'info box trovate tutte le informazioni per prendere questi abitini, quello lì mi sembra quello con la cernierina qui davanti ci sia anche nella versione rosa, comunque, ecco, per sicurezza guardate meglio. E noi ci sentiamo al prossimo video. Un bacione, tesore, ciao, belle!